Quando si dice gli alieni, la Bibbia non parla di alieni, no? In realtà, se anche noi vogliamo considerare Dio per come ce l'ha venduto la teologia, beh, è la classica descrizione di un alieno. Non appartiene al nostro mondo, ha caratteristiche diverse dalle nostre, non appartiene alla specie umana, arriva da un'altra parte, e nei dizionari italiani uno così come è definito, alieno. Quindi, la prima, teologia non posso chiamarla scienza, la prima forma di pensiero che dice che nella Bibbia si parla di un alieno è la teologia, anche se a loro non piace. Non piace cosa? Se ne piassero dire. Non piace se si dire che parlano di alieni anche loro. Eh beh, ovvio. Grazie.